ha compiuto 18 anni è diventato maggiorenne oggi sono 18 anni dal giorno della sua ordinazione sacerdotale siamo contenti felici e onorati che abbia scelto proprio oggi di essere con noi per presentarci il suo ultimo libro un amico fraterno don francesco cristoforo che accogliamo davvero con un grande abbraccio e con un augurio in questa giornata speciale buongiorno don francesco buongiorno paola buongiorno leonardo e tutti i telespettatori tanti auguri tanti auguri grazie tanti auguri allora stiamo vedendo proprio queste immagini delle fotografie appunto di quel giorno beh allora non possiamo non chiederti che cosa provi e magari ecco raccontaci anche qualcosa di quella giornata che davvero resta indelebile per ciascun sacerdote intanto quelle 9 aprile del 2006 era una domenica delle palme quindi c'era veramente un'aria di festa anche tutto ciò che era stato preparato era proprio festa ed è stato un momento bello perché tanto desiderato ecco ho sentito proprio questo abbraccio di dio nella mia vita non solo in quel giorno ma anche in tutti questi lunghi 18 anni se dovessi racchiudere tutto con una parola con una frase direi un grande abbraccio da dio alla chiesa ai fedeli chi ti ha ordinato sacerdote don francesco monsignor antonio ciliberti di venerata memoria che adesso non c'è più ricordo un particolare siccome io avevo difficoltà a inginocchiarmi fui aiutato a prostrarmi a terra che poi fu un caso raro perché io fui ordinato proprio nella parrocchia di origine di sotto le ordinazioni che vengono nelle cattedrali e poi lui alla fine della litania dei santi scese da da quei due gradini e venne ad aiutarmi a rialzarmi e mi diede un abbraccio così forte che appunto questo abbraccio io l'ho sempre avvertito è vero si poi appunto a distanza di 18 anni ecco da quel giorno magari ecco forse hai anche c'è un po più di lucidità nel ricordare quello che è successo perché magari ecco in queste occasioni così importanti non si ricordano i dettagli ma mi sembra che tu hai chiaro ogni fotogramma di quella giornata caro don francesco penso proprio di sì ma io dico sempre che sacerdoti non si nasce come non si nasce mariti come non si nasce mogli no e si nasce solo figli e figli si può ecco crescere ogni giorno e così sacerdoti si diventa ogni giorno con le fragilità con i fallimenti con i successi con le cose belle con quelle che ti rattristano però dobbiamo avere sempre questa consapevolezza in ogni cosa della nostra vita sia che siamo sacerdoti o che siamo sposi o altro che in questo cammino non siamo mai da soli è una gran bella certezza questa don francesco sei con noi perché a distanza quasi esattamente di un anno perché l'anno scorso di ieri o di domani eravamo collegati via skype per parlare del tuo penultimo libro la speranza che cerchi a distanza di un anno è uscito sempre per burrizzoli le vie di maria storie di pellegrinaggio e conversione all'urde fatima e meggiugori quindi questa volta ad accompagnarti è stata la madonna sì ma questo libro nasce proprio come un omaggio a maria per questi primi 18 anni di sacerdosio intanto maria è presente nella mia vita fin da quando avevo all'incirca otto anni da quando grazie alla nonna materna che mi insegnò la prima preghiera cioè l'ave maria perché io provenivo da una famiglia che non era molto credente anzi piuttosto arrabbiata con dio per questo figlio nato disabile allora non insegnò questa preghiera io feci il primo altarino alla madonna e inizio la mia storia con lei e da quel giorno ecco sempre questo abbraccio di maria questo manto di maria su su di me quindi questo libro è un omaggio allora diventa un viaggio che parte da me poi facuta appa all'urdo fatima e meggiugorje ci sono storie raccontate in questo libro don francesco che io adesso sto sfogliando sono storie che hanno a che fare anche con dei volti delle vicende particolari quale di queste più ti ha non dico colpito ma ha lasciato il segno nella tua vita allora io chi mi conosce sa che amo raccontare storie quelle storie belle quelle storie di luce quelle storie di speranza di quelle storie di gente che c'è riuscita che ce l'ha fatta che non significa necessariamente essere guarito da un male fisico ma aver ritrovato la speranza nel cuore tutte e tre le storie io dico che sono state mandate da maria ce n'è una legata a meggiugorje di un ragazzo calabrese e che si chiama giuseppe oggi ha 39 anni e un giorno mi arriva un messaggino sul cellulare io avevo anche il suo nome memorizzato ma non ricordavo chi fosse e questo ragazzo a un certo punto mi chiede io stavo cercando una storia da scrivere su meggiugorje attenzione cosa ne pensi di meggiugorje come perché questa domanda strana allora fui vago e allora mi disse io ad aprile dello scorso anno sono è la domenica della divina misericordia sono stato a meggiugorje per la prima volta e la madonna mi ha cambiato la vita ora faccio i pellegrinaggi accompagno giovani e volevo un sacerdote che ci accompagnasse allora lo sento mi racconta la sua storia bellissima fortissima emozionante dico solo un particolare per esempio lui dice quando eravamo piccoli a volte non avevamo neanche il gas per riscaldare il latte e a volte mancava il latte e avevamo il gas quindi una storia veramente di povertà un incidente lo rende paralizzato dalla testa ai piedi arriva a meggiugorje dopo tanto tanto peregrinare e qui davvero gli cambia la vita accetta la sua disabilità e diventa un testimone di speranza come ben detto don francesco ti piace raccontare storie ti piace andarle a trovare ma a volte sono davvero le storie che che trovano te l'amicizia che ci lega da tanti anni l'amicizia davvero fraterna in qualche modo ecco mi mi sprona a chiederti lo posso fare perché abbiamo tanta confidenza tu tante volte hai raccontato come davvero la tua disabilità tu prima eri arrabbiato con con il signore proprio posso proprio utilizzare questo termine tra l'altro non conoscevi padre pio ma non eri neanche devoto oggi invece sei come dire un suo un suo fan anzi viene spesso a san giovanni rotondo però questa tua disabilità non hai avuto la guarigione del corpo però hai trovato una ricchezza che ti permette che in qualche modo di essere un testimone per gli altri autentico di quello che vivi sulla tua pelle nel tuo cuore intanto lasciami dire che anche la nostra amicizia è maggiorenne ormai perché ormai siamo ci conosciamo da tantissimi anni allora hai detto molto bene perché io sono arrivato a dire alla madonna che era una mamma cattiva a gesù che era malvagio a padre pio che ci devo andare a fare da padre pio lo posso pregare ovunque in realtà non lo pregavo mai e poi arrivo da padre pio nell'anno in cui c'era l'ostensione del corpo e lì piango come non so che cosa quale termine usare a dirotto per più di mezz'ora e da allora è iniziata la mia avventura bellissima con san pio da pietrilcina Don Francesco sono sbalzi adolescenziali potremmo definirli così visto che adesso sei maggiorenne insomma sono una maggiorenne speriamo con un po di sale e zucca comunque per dire che davvero ero arrabbiato però poi ho capito da tante cose che sono successe che tutti possiamo essere degli strumenti di luce degli strumenti della bellezza della misericordia di dio e non necessariamente dobbiamo avere delle gambe perfette per poterlo fare è il cuore che deve essere pieno dell'amore di dio perché ciò che tu hai dentro che esce fuori e se tu ami questo amore poi esce come un fiume e invade ciò che incontra è proprio così Don Francesco siamo in chiusura però prima voglio ricordare che tu sei parroco anche della parrocchia Santa Maria Assunta di Simeri Cricchi ed è una parrocchia Leonardo io sono stata molte volte a Simeri Cricchi in provincia di Catanzaro saluto tutti gli abitanti e i parrocchiani e Don Francesco davvero ha una rete di amicizie una rete familiare che ecco in qualche modo davvero gli permette di fare delle di organizzare delle cose straordinarie dal carnevaletto non so dei bambini alla caccia al tesoro a tanti eventi anche che hanno visto personaggi importanti arrivare a Simeri Cricchi quindi questo significa che hai seminato bene Don Francesco stai continuando a farlo beh speriamo di sì allora ci vediamo presto a Simeri ci vediamo presto a Simeri Cricchi allora ricordiamo il tuo libro Le vie di Maria storie di pellegrinaggio e conversione all'Urd Fatima e Meggiugorio sei un po' in giro a presentarlo recentemente sei stato a Gela giusto la domenica della domenica per la festa della misericordia come è andata? è stato bellissimo c'era tutta la Sicilia ma non solo c'era veramente tanta tanta gente che mi sono sentito piccolo 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 così ma è stato bello poter dire a tutti che al di là di ogni cosa la misericordia di Dio vince sempre ecco e allora ci vogliamo davvero lasciare con questo messaggio grazie Don Francesco per essere stato con noi davvero tanti auguri in questa giornata importante ricordiamo i 18 anni della tua ordinazione sacerdotale e torna a trovarci presto anche a San Giovanni ti aspettiamo Padre Pio ti aspetta grazie 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 Don Francesco andiamo in pubblicità facciamo qualche istante di pausa mentre ringraziamo ancora Don Francesco e poi ritorniamo insieme